Benvenuti in questo video, oggi siamo su un gioco nuovo con Dea, ciao Iscrivetevi anche al suo canale che si chiama Kami e Fra E fatelo arrivare ai 1000 iscritti che gli mancano 500 iscritti Oggi vi faremo vedere tutti i trick, un po' ne sbaglieremo però siamo capaci Sì, ci siamo già esercitati un po' Iniziamo con il trick quello la easy Rosso Rosso, iniziamo con il trick quello easy della palla in alto Ok Ma quello la di lato Sì, quello la che lanci la palla in alto e poi fai la scivolata e la riprendi Quello la che fa Fra Ecco questo e poi raga fate così Adesso noi non siamo molto praticati però prima ne abbiamo fatti i 10 così Sì, è vero Nemmeno uno non è normale Beh, aspettiamo che riusciamo a farlo Vai Io entro con la scivolata Eppure il secondo metodo per farlo più easy Se trovo le rocce Allora E poi dovete tirare le rocce e gli fa gol Vai Oppure c'è l'altro modo che lui ti può si gire e poi li entri No Aspetta Ecco Hai trovato le rocce Bomba Bomba Non c'è O se no secondo me proviamo a fare così No Vabbè tanto io la trovo Eccole Vai Ragazzi iscrivetevi al canale Ma io ora ora Grande Questo qua è stato uno dei primi trick ma non ci fermiamo qua Perché ne dobbiamo fare altri Allora un altro trick che noi sappiamo fare Io farei questo qua Ok Vai Lo faccio io a te Aspetta No No Non è possibile No no Passa passa Adesso io li entro Sì Può essere pure questo Oppure adesso ve ne mostriamo un altro simile a questo Però quello è un barbio In partita pubblica Non si deve li affare Sì è vero Proviamo a fare questo qua Oppure li puoi entrare Tipo in porta così Prova a tirargli La palla Portalo a pochissima vita In partita questo qua è difficile da fare Quindi io ve lo consiglio in privata Questi trick Alcuni di questi trick Altri li potete fare In partita No Ma faccio gole Volevo segnerti la vita Però anche questo Raga Un trick Che lei l'ha fatto cadere E poi ha subito segnato Vai Io li entro nella porta Ma dai Ma io ho già la piena torta Ma c'è questo gole Mi dà un rischio Prova a fare io che c'ho il mirino Prendi quella roba Prova a fare io che c'ho il mirino Io ce l'ho Il batterino Ma è più facile farlo senza Allora Gabri Tu entri dentro la porta Capito? Ok Sono dentro la porta No dopo Ah Allora mi butto anche dentro la porta Ok però Prima Oh 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 Ho le cose ho le cose Non sparare Non sparare Mi metto davanti Passamela Dovevo mettergliela sotto le gambe Ragazzi Se facciamo un gole Perché Vai Passo Grazie Sum Questo qua è il trick Secondo il trick Questo qua Io lo so fare molto bene Che li devo entrare nella porta Passa Però io Mi sentirei anche a schivare In che senso? A schivare Aspetta che ho di nuovo Aspetta che ho di nuovo Aspetta Che è anche un altro trick Che serve Basta a me Ah facciamo quello che entra dentro la porta Sì Sì Palla Se tipo Cambio la squadra solo per fare questo trick Perché dobbiamo far vedere com'è Ok dammi la palla Ok Se Questo qua è un altro trick importante Che praticamente Poi fai cadere l'avversario Aspetta Però se io faccio così Ciao Vai Dimettiti Ross Ok Eccomi Quindi Questi qua sono Alcuni trick Ma la prossima volta Li faremo anche In se mi ha sciso Ebbio Continuo a fare questo qua Che non devo fare Aspetta Vai raga Facciamo gli ultimi del gol E poi ci salutiamo Prova Gigi Adesso faccio io l'ultima Sì ma non è possibile Mi potremmo fare sta cosa Vai Fammi fare l'ultima No Se ne entriamo a 10 Però facciamo Quello che entra dentro la porta Però io che non l'ho mai fatto Ok Tu l'hai già fatto E ma un favore Ah non è possibile Vai entra Ok Poi lo voglio alzare E poi li puoi entrare Prenda il super Sì Con il super To Passa 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 Mi sto finendo Oh Quindi raga Per questo video è tutto Se volete altri video con Dea Iscrivetevi al canale Vi lascio il link Del suo canale in descrizione Ciao Ciao Ciao